Allora? Senti, sei in una posizione privilegiata per farti una cultura. Tieni la bocca chiusa e gli occhi aperti. Se vuoi sul serio combinare qualcosa nel mondo reale, questo è il posto per imparare. Ma se davanti a certe cose resti turbato, forse è meglio che torni alla tua divisione, no? Ti fai un pianto col comandante e gli chiedi di essere messo nella stradale, a prendere le distanze negli incidenti. Sei tu che devi decidere se diventare un lupo o restare una pecora. La morte è certa, la vita no. O così. O vagli a dare una mano.